Buonasera a tutti. Nonostante la chiusura dei mercati americani, oggi è stata una giornata abbastanza interessante perché ci sono stati dei primi segnali di allarme per quanto riguarda l'andamento di breve periodo del settore bancario. Ovviamente non potevano esserci tantissimi spunti operativi, ma vi condivido subito lo schermo e vedremo assieme che in realtà 2 miliardi 176 milioni con i mercati azionari americani chiusi non è neanche un dato così da disprezzare. Se partiamo un attimo dagli indici europei, ovviamente dal DAX, vediamo che continua il trading range che ormai accompagna l'andamento dell'indice tedesco dal 2 febbraio scorso. Il minimo importante da non perdere è 15.246, il massimo è 15.519. Per quanto riguarda il CAC siamo in questo caso nella parte alta del range, ma dovremmo rompere 7.387 per dare un segnale rialzista definitivo. Eurostox ha questo massimo di breakout a 4.316. Veniamo oggi al Fuzzimi Futures più negativo degli altri indici europei perché, come vi dicevo, hanno iniziato una correzione di breve periodo le banche e se non fosse stato tenuto come invece è accaduto il minimo di venerdì 27.515, sarebbe stato addirittura un ingolfo in Biric per cui un segnale addirittura di uscita dal mercato. Partiamo come al solito dai titoli che si sono mossi meglio e peggio nel Fuzzimi B, cominciamo in questo caso dai peggiori perché oggi è stata comunque una giornata negativa e Unicredit è il primo titolo di cui dobbiamo parlare. Qui c'è un ingolfo in Biric. Ecco, anche se io vi ho dato un 18,974, devo dire che chi avesse voluto prendere profitto oggi dopo questa ingolfo in Biric non avrebbe a mio avviso sbagliato più di tanto. Il livello per domani è 18,69 minimo del 16 febbraio, poi abbiamo questa serie di minimi tra il 13 e il 15 febbraio, quindi tra 18,48,2 e 18,52. Però oggi, ripeto, prima giornata con un segnale comunque negativo su Unicredit. Poi, secondo il titolo peggiore, banca generale, però qui c'è lo stacco dividendo, per cui in realtà se consideriamo lo stacco non è stata una seduta particolarmente negativa, comunque dal punto di vista tecnico può andare fino a 32,88 minimo del 5 di gennaio, poi a 32,46 minimo del 3 di gennaio, considerato che la media mobile a 100 è 32,13. Poi abbiamo ancora Iveco, Iveco bisogna fare molta attenzione domani perché il minimo di oggi è stato 8,97,1, lo stop poteva essere o 8,95 o meglio ancora chiuso la gap 8,91,5, se dovesse andare sotto 8,91,5 avrebbe sicuramente un'accelerazione piuttosto forte. Banco BPM dopo la candela di indecisione di venerdì oggi invece fa una seduta di correzione e per le prossime giornate avremo come livelli 4,059, 4,022, 3,99,8. Ecco, sotto 3,99,8 avvicherei uno stop profit su Banco BPM per un target multiday direi area 3,80, poi media mobile a 50, 3,7,48. Veniamo ai migliori, Saipem che continua a essere in questo laterale stretto massimo di giornata 1,47 e chiusura 1,45,5 probabilmente continuerà ancora a muoversi in trading range tra 1,37,5 e 1,55, 1,55,6. Poi Stellantis fa nuovo massimo di periodo a 16,24, ma lascia aperto un gap a 15,9,86, in questo caso il target rimane 16,55 massimo della prima settimana di marzo dello scorso anno. Poi abbiamo anche un tentativo di ricopertura sulle utilities, Italgas fa una chiusura positiva anche se una Doji continua a rimbalzare dalla media mobile a 205,424, penso che possa arrivare fino a 5,58 e poi chiudere il gap lasciato aperto a 5,61. Poi abbiamo A2A, A2A in realtà fa una shooting star quasi gravestone doji, massimo 1,39,55 e chiusura 1,38, in questo caso è importante che non perda 1,34,8. Ma quello che dobbiamo guardare è soprattutto l'andamento dei titoli fuori dal Fuzzimib, perché oggi ci sono stati alcuni titoli che hanno fatto un numero incredibile. In realtà per esempio S3D, la mettiamo un attimo qui sul Buctisfera, vedrete che segna un quasi più 50%, ma è un teorico perché non ha fatto neanche asta finale. Oggi non ha scambiato per l'intera seduta e non ha neanche un pezzo e non ha fatto neanche aste finale. Probabilmente domani uscirà un comunicato di Borsa Italia che verranno proibiti gli ordini al meglio. L'altro titolo che ha fatto molto molto bene è Vimi, in questo caso abbiamo un teorico più 32,82%, 1,72, ma anche qui non ha fatto asta finale perché è stata sospesa per eccesso di rialzo a 1,50, quindi per domani c'è da aspettarsi che possa proseguire al rialzo. Diamo uno sguardo a Vimi che comunque ha fatto questa bellissima Marbozo White con volumi in discreto aumento, anche se il controvalore è stato abbastanza minimo. Dal punto di vista tecnico, al di là del teorico che abbiamo visto non essere stato scambiato in asta, fino a 1,79, anche 1,87 potrebbe arrivare. Poi abbiamo anche reti, anche qui movimento incredibile Marbozo White 1,93 e mezzo 2,28 con volumi in netto aumento e per reti il target è almeno 2,35, magari mettiamo anche un time frame settimanale potrebbe arrivare fino poco sopra 2,40, 2,42 diciamo. Poi visto che interessa all'amico Frank Agathos, ovviamente qui è uscita la notizia, io sono riuscito a fare qualcosina sul daily, si vede ancora meglio, è stata anche sospesa per eccesso di rialzo, ha fatto un massimo in 3,66 andando sopra la media mobile a 100, 0,64,4 ma poi ha chiuso a 0,62,4, comunque volumi molto importanti, per domani è assolutamente un titolo da seguire. Poi un altro titolo che ha fatto un bel movimento oggi Alfonsino, ha fatto più 9,50 con volumi discreti perché in realtà per Alfonsino sono anche piuttosto importanti, il nuovo segnal rialzista però ci sarà solo sopra 1,25, sotto 1,064, comunque chiuderei ugualmente la posizione sul titolo. Montepaschi, scusatemi che ve la faccio vedere sempre di qua, ma comunque quello che conta è che ha fatto una sospensione per eccesso di rialzo, ha chiuso più 7,97 e in ogni caso il primo target ormai è il massimo del 14 di ottobre 2,98,84 e poi la chiusura del gap lasciato aperto il 13 di ottobre a 3,5635, comunque già 2,98,84 è un ottimo livello. Poi abbiamo ancora Tesmec che ha fatto un più 6,59%, minimo 0,166, massimo 0,1798, chiusura a 1,078, per domani almeno 0,1848 lo può tranquillamente raggiungere. Poi continua a essere sempre molto forte Ulisse, oggi in realtà è stato un andamento nervoso perché chiude poi con una spinning top si middoji, fa un nuovo massimo di periodo a 3,28, chiude a 3,11,5, comunque anche questo titolo sembra al momento non avere alcun freno, credo che possa andare fino a completare il movimento fino in aria a 4, non oltre e comunque uno stop profit già sotto il minimo di venerdì 2,76 e mezzo lo metterei. Poi è qualche giorno che si muove abbastanza bene Italia Italian Exhibition Group, potrebbe rompere sempre al fiere di Vicenza Rimini 2,65, sopra 2,65 il target è almeno 2,76, quindi anche questo è un titolo da monitorare. Ho visto un po' di interesse anche su Powersoft, oggi i volumi sono stati inferiore a ieri ma ha fatto un massimo in 3D a 5,40 per cui sta provando a rompere il rialzo e di conseguenza andare fino a 5,60 almeno, che è il massimo del 12 di novembre. Poi vediamo, ultimo titolo direi che vi voglio far vedere è Farmanutra perché mi è piaciuto abbastanza questa ripartenza, non ha preso lo stop che era a 58,4, oggi chiude leggermente sopra la media mobile a 50, 61,8, per domani primo target 63,4, media mobile a 100 e poi media mobile a 264,3. Ci sono stati altri movimenti interessanti nel settore small cap, guardiamo ancora Sebino, ecco perché Sebino si sta impostando per rompere, titolo che darebbe un segnale definitivo sopra 6,10, sopra 6,10 può arrivare fino in area 6,50. Vediamo nei peggiori invece che cosa è andato male, oggi c'è stata un po' di correzione su Spindox, però i volumi non sono particolarmente significativi, continua questa fase ribassista dopo aver perso venerdì la media mobile a 211,22, per domani target 10,05 oppure media mobile a 100, 9,94, realtà poetiche 9,95. Ben venduta anche Esprinet che tra l'altro rompe la congestione di breve praticamente perché il minimo era 7,10 e mezzo, per domani può andare prima a 7,02 e poi a 6,90 e mezzo. Saranno importanti anche i livelli intermedi della media mobile a 200, 6,99 e di quella a 100, 6,95. Poi continua la correzione di Expert AI, vedete che dopo aver fatto la shooting star quasi gravestone doji del 9 di febbraio 1,068, oggi siamo già a 0,81,1. Domani sarà una struta importante perché a 0,76 e 0,35 c'è media mobile a 200 e il livello sotto il quale chiuderei assolutamente il titolo è 0,755. Tra i titoli peggiori c'è stata anche Telecom Risparmio, però al momento non c'è stato ancora, non se ne è riuscita, guardiamo anche un attimo l'Ordinaria, l'Ordinaria fa anche fatto di tour a Candelinside per cui nonostante sia saltato l'incontro con CDP 0,3014 è il livello sotto il quale può accelerare fino in area 0,29. Poi abbiamo Gas Plus, vediamo Gas Plus che continua a essere in laterale e anche qui bisogna aspettare almeno la rottura di 2,33 per uscire dal titolo con primo target 2,21. Poi diciamo che altri grossi movimenti magari vediamo ancora Ferrovie Nord Milano che perde la media mobile a 50,044,1 per domani target almeno 0,043 e poi ancora Ariston che in una situazione secondo me abbastanza dedicata perché è vero che la media mobile a 109,154, però per come si è impostata secondo me il titolo potrebbe andare a rompere anche area 9 e andare a testare la media mobile a 200,8,731. Per questa sera ho concluso, la giornata è pur sempre stata orfana dei mercati azionari americani, noi ci sentiamo domattina prima dell'apertura del mercato diurno. Auguro una buona serata a tutti.